buon salve a tutti sono sempre not me e bentornati su brutal legend rieccoci tornati non posso saltare mi dà molto fastidio direi che è ora di partire per il tour della distruzione ok siamo pronti ma come qualche ora no ora vabbè solo qualche ora 10 secondi va bene comunque no 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 ok calmi ok così si sparava comunque quelli erano via che cazzo sei esplosioni si no amico amico però volentieri io vorrei anche aiutarti se ne vedessi mezzo mamma con che musica però si può cambiare con che musica con che falsetto incredibile tu esplodi cosa no vado io lasciami passare però ok c'è la possiamo fare a uccidere quelle maledette scimmie un andato dove sei vieni qua ma dai che ci passi ora muore tantissimo ma che palle dai non so guidare non so guidare ok allora oh madonna quanti sono siamo arrivati yes yes si mani in alto ce l'abbiamo fatta finalmente figata cos'è schifezze ha yeah fanculo si però questo bug incredibile è di un demone non lo so ok quindi grandissima battaglia vogliono il nostro cosa sono cosa sei che cazzo oh my god sono si sono di su cos'è cos'è ma no cos'è ok spero non si sono ali figata figata grandissima figata sei strafigo sei strafigo no perché devo combattere e sono tutto demoniaco lasciami combattere che figata sono un mezzo demone ora faccio i culi è vero è vero è vero per cosa R eh beh sì sì infatti non serviva essere questo groundwalker spieghella ma dobbiamo conquistare qua ragazzi ma c'è c'è ma abbassa ma stai buono leonite non capisco niente non capisco ok sto uccidendo tanto l'importante è quello muori muori non si fanno colpi di mortaio così e invece sei morto eh puttanella finalmente una battaglia che sta andando bene ce l'abbiamo fatta abbastanza ma no ma poveri li prendo io li prendo sono simpatici ciao voglio un po' di metal no non posso più volare che palle volevo volare grazie amico ciao 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 giustamente abbastanza bene ragazzi direi che per oggi è abbastanza grazie per aver guardato il video spero vi sia piaciuto intanto che Eddie suona e accorda la chitarra lascio il link della pagina facebook in descrizione come sempre ci si rivede alla prossima comunque non vorrei dire ma qua c'è ancora una ragazza che mi ha promesso un bacio e non mi ha dato ancora niente cioè così è ciao